Benvenuto ad un'altra recensione di BricksLab, la community italiana dedicata al mondo dei mattoncini. Se è la prima volta che capiti sul mio video, io sono Mirko e mi occupo principalmente di recensioni, tutorial, tutto ciò che è inerente il mondo dei mattoncini LEGO e compatibili. Se invece sei già un membro della nostra community, bentornato. Nuova recensione LEGO, questa volta un omaggio, un gift with purchase, ovvero uno di quegli omaggi che si ottengono col raggiungimento di un minimo di spesa. Stiamo parlando del set 40409, ovvero la Hotroad, o forse la Dragster, dipende. In realtà si chiamano in entrambi i modi, ma a seconda della nazione la vediamo chiamata sia come Dragster che come Hotroad. Così come è riportato poi sul fondo della scatola dove riporta i vari nomi nelle varie lingue. Il set è possibile ottenerlo con una spesa di 85€ sul LEGO Shop o nei LEGO Store e LEGO Certified Store. Disponibile sul LEGO Shop e Tom e nei LEGO Store ufficiali dal 1 al 21 giugno, mentre solo fino al 7 giugno nei LEGO Certified Store. Sul sito ha un valore di 12,99€, ma ovviamente non è acquistabile a parte, ed è composto da 142 pezzi. Questo set è una reddizione, una replica del set 5541, ovvero la Blue Fury, uscita nel 1995 e facente parte della serie Model Team. La serie Model Team era un po' una creator expert dedicata ai veicoli, in scala più grande rispetto alle scale normali da siti della LEGO. Questo set è stato poi ristampato, ha avuto una riedizione, più che una vera e propria ristampa, col codice 1051 per la serie Legends nel 2004. La serie Legends, per intenderci, era una serie di ristampe e di riedizioni di set iconici della LEGO. Ovviamente quei modelli erano in scala molto più grande, parliamo di 440 pezzi circa contro i 142 dell'omaggio. Diciamo che questa è una replica in scala più piccola, perfettamente adattabile però alle nostre siti. Credo che per le informazioni preliminari su questo set è veramente tutto, direi di passare all'unboxing e al montaggio del set. Fortunatamente in questo caso non ci sono i bottoni a pressione, ma ci sono i sigilli adesivi. Quindi con il nostro cutter andiamo a rimuovere uno dei sigilli, facendo sempre attenzione a non distruggere la scatola. Ed ecco qui che all'interno della scatola troviamo delle plate così sfuse, una busta non numerata, un set di sticker che potete vedere riporta il motivo del motore, la targa e la sigla hotroad da attaccare sull'auto e in più una seconda busta di pezzi, questa volta più piccola, e un manuale di istruzioni che vediamo essere di circa 40 pagine e in tutto 36 step. Bene, direi che anche l'unboxing è terminato molto rapido, molto veloce. Passiamo ora al montaggio del set. Ci tenevo a far vedere come è stato realizzato il fanale. Una soluzione molto molto carina di un plate 1x1 con clip più questo round modified con la bar e sopra un semplice round 1x1 tile transred. Questa soluzione di montaggio senza clip l'abbiamo vista come accessorio di qualche minifig, ma messa come clip ci dà proprio l'idea della barra con il fanale. Veramente carinissima come soluzione per andare a creare gli stop posteriori di questa hotroad. Un'altra cosa da notare è che la targa è proprio MT5541, ovvero il codice del set originale e ovviamente MT sta per model team, quindi un chiaro riferimento al modello originale di cui è la replica in scala. C'è un'accortenza da fare quando si orientano gli adesivi, come vedete i bocchettoni del motore. Credo si chiamino bocchettoni, insomma pistoni, le teste dei cilindri. Non ho idea, sapete che non sono molto pratico di automobili. Hanno comunque un orientamento, perché vedete hanno un'ombra che viene proiettata dalla testa del cilindro. In questo caso ovviamente va nello stesso verso delle clip, di modo che l'ombra venga proiettata verso il basso e questo lo possiamo capire anche dall'illustrazione sulla scatola. Porta lo stesso dettaglio e lo stesso orientamento. Quindi questa è l'unica cosa a cui fare attenzione, come orientare la tile. Va bene che essendo una tile basta poi invertire il senso e si può rimettere a posto, però è meglio farlo prima. Ed ecco qua montato il set 40409, la Dragster. Prima di passare alle considerazioni generali, piuttosto che farvi vedere il colpo d'occhio del modello, ci tenevo a farvi vedere qualche particolare. In quanto, nonostante il modello sia piccolino, perché parliamo di 140 pezzi, in realtà è molto 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 particolareggiato. Come vedete ci sono le varie borchie, i fanali, è tutto ben progettato e ben realizzato. Una cosa che mi ha lasciato un po' di amaro in bocca, diciamo, è purtroppo la qualità delle tile. Non so se dalla camera si riesce a vedere, ma comunque i pezzi sono micrograffiati o comunque striati. Questo purtroppo è una cosa che sto notando sempre di più nelle ultime produzioni Lego. Anche qui sullo slope, forse la luce non aiuta, ma c'è una grande irrigatura centrale lungo tutto lo slope. Certo, sono cose di poco conto, ma tante cose di poco conto messe insieme, diciamo, non è bello vedere uscire dei pezzi nuovi di pacca già graffiati. Detto questo, modello particolareggiatissimo, molto ben fatto. Il motore è carinissimo come è realizzato, nonostante gli adesivi. L'orientamento delle marmitte è permesso con delle clip e quindi si possono orientare nel migliore dei modi. E devo dire che la costruzione prosegue ben o mal liscia. Non c'è nessuna tecnica di costruzione particolare. Forse l'unico passaggio qui è quando si vanno a mettere i due plate round uno per uno green per capire un po' con i bracket come vengono fissati. Insomma, parliamo di rudimenti di costruzione, niente di eccezionale. Questo può tornare utile come ispirazione per creare altri modelli di motore per le dragster, per le hotroad, così come questo modello ci può dare un'idea di come costruire veicoli del genere o qualche muscle car con qualche bel motore in evidenza in una scala comunque a 6 stud. Devo dire, è molto ben realizzato, si monta velocemente e le minifig sono molto particolareggiate. Ma passiamo proprio ad analizzare un po' tutto il set e le due minifig. Allora, le prime considerazioni le abbiamo fatte che dire di questo set? Molto carino, molto piacevole, come si vede a colpo d'occhio è esteticamente molto ben fatto nonostante la scala ridotta e va sicuramente ad ammorbidire quelle che erano le forme spigolose del modello originale. Quindi, più che una replica in scala è una vera e propria riproposizione aggiornata. Il set è perfetto per essere integrato nelle proprie siti, è una 6 stud, quindi perfettamente compatibili con i nostri modulari, con l'officina, con le nostre strade. Sotto questo punto di vista ottima la scelta di questa scala. Il set originale prevedeva anche un model B con cui si poteva costruire una sorta di go-kart con gli stessi pezzi del set. In questo caso non è previsto ma se avete seguito qualche mia live sapete che stiamo preparando delle istruzioni per poter costruire un model B anche di questo modello sempre per poterlo trasformare in quella sorta di go-kart come era in origine. Il progetto è già ottimato dobbiamo solo rilasciare le istruzioni. Per quanto riguarda le due minifig davvero molto carine molto ben fatte e direi di andarle a vedere un po' più nel dettaglio. Partiamo con la minifig della meccanica. Devo dire la verità molto carino il torso con questa salopette sporca d'olio allacciata solo da un lato e la camicia sotto con il portapenne davvero carinissima decorata sia sul fronte che sul retro ovviamente coerentemente con la bretella staccata della salopette il cappello con coda di cavallo si presta perfettamente per riprodurre ovviamente una lavoratrice in officina così da non avere d'impaccio i capelli lunghi e molto molto carina particolareggia veramente tanto la stampa del viso in quanto riporta anche le macchie d'olio sulla faccia davvero carinissimo questo particolare e la testa è disponibile in due espressioni ovvero la prima sorridente con queste macchie di grasso di olio sul volto mentre la seconda un po' più seriosa senza alcuna macchia quindi potete esporre questa minifig sia prima che dopo i lavori come accessori porta una chiave inglese ed un martello quindi perfette per ogni riparazione su un'automobile passiamo invece ora all'autista della dragster anche in questo caso una minifig molto ben fatta decorata sia sul torso che sulle gambe questa volta con una stampa sui pantaloni molto particolarizzata infatti oltre alla cinta vediamo anche le tasche davvero ben realizzate e anche qui due macchie d'olio sulle ginocchia quindi anche qui possiamo presumere che magari il guasto è avvenuto durante la marcia e già il ragazzo aveva provato ad intervenire sull'auto molto bello il torso che è una classica giacca da college davvero ben fatta braccio in light bluish grey e torso in blu riporta le iniziali NH che in realtà non credo abbiano un corrispettivo o meglio ho fatto anche qualche ricerca non c'è nulla al quale facciano riferimento anche su Bricklink semplicemente è listato come torso con NH giallo ma se avete qualche informazione in più se sapete a cosa può far riferimento questa sigla NH fatemelo sapere nei commenti anche in questo caso è stampata sia sul fronte che sul retro per quanto riguarda la testa invece ha una sola espressione ovvero questa con gli occhialoni da sole e il sorriso capelli molto carini ma anche in questo caso è un accessorio comune che già conosciamo benissimo considerazioni generali sul set un set approfetissimo veramente molto bello si monta facilmente pochi pezzi da ottimi spunti per creare modelli simili per arricchire la nostra city o magari per ricreare quello spirito un po' retro così come il dinner giocabilissimo come set perché poi alla fine è comunque un'automobilina ci sono comunque gli attrezzi quindi ha anche quella giocabilità fa comunque riferimento a un modello iconico per quanto riguarda la storia della lego quindi anche dal punto di vista collezionistico è una vera chicca ma qui va fatta una considerazione non cadiamo nell'errore di voler tutto a tutti i costi o meglio avete il modello originale ok ci sta tutto che vogliate questo modello vi piacciono le auto vi piacciono le auto d'epoca vi piacciono le muscle car vi piacciono le hot rod ok prendetela non avete alcun feeling con questo modello potete saltarlo tranquillamente tra l'altro il mio consiglio è sempre quello piuttosto che acquistarlo da solo spendendo 15 20 30 insomma quello che è è sempre preferibile fare una spesa comunque minima poi mal che vada rivendete i set o li utilizzate come sfuso perché tanto ora c'è l'imbarazzo della scelta sullo shop è uscito praticamente di tutto quindi è un po' difficile non trovare qualcosa da acquistare in questo momento un altro consiglio che vi posso dare se non siete riusciti a prenderla magari sullo store perché è terminata o se magari non volete comunque fare un acquisto e non volete prenderla poi separatamente rebriccatela si può fare tranquillamente certo mancheranno gli adesivi ma quello non è un grande problema se si vuole ricreare il modello d'auto l'unico particolare potrebbe essere quello del motore ma è un adesivo che ben o male è stato riproposto in altri modelli quindi anche qui tutto sommato non è di così difficile reperibilità detto questo un omaggio veramente carino c'è però da fare la considerazione che effettivamente rispetto al passato 140 pezzi su una soglia di 85 euro non è un rapporto dei migliori nel senso prima con soglie d'acquisto molto più basse 55 65 si riuscivano a ottenere dei modelli con molti più pezzi e questo secondo me è un dato da tenere presente credo che non ci sia più niente da dire su questo modello fatemi sapere nei commenti se siete riusciti a prenderlo se l'avete preso se lo salterete e nel caso cosa avete acquistato per poter ottenere l'omaggio se poi il video vi è piaciuto ovviamente lasciate un like e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nemmeno un aggiornamento e un video di BricksLab ricordo inoltre che BricksLab non è solo un canale ma è una vera e propria community fatta da tantissimi appassionati ha il suo cuore pulsante nel gruppo Telegram e trovate tutti i riferimenti nei link in descrizione dove troverete anche il link al canale Twitch dove a giorni alterni c'è una live dedicata proprio al mondo dei mattoncini se poi le recensioni vi piacciono vi piacciono i miei tutorial vi tornano utili volete offrirmi un caffè virtualmente potete farlo con una donazione tramite Streamlabs o Paypal anche qui trovate tutti i link in descrizione detto questo credo che ci siamo detti veramente tutto quindi per questa recensione per questo video è davvero tutto come sempre io sono Mirko alla prossima a Grazie a tutti.